ok ragazzuoli siamo qui per un altro video un video saranno un video siamo in assalto contro dei mercenari per prendere un carico ma siamo in compagnia degli sbirri che ci stanno aiutando oh no oh cavolo sparato per sbaglio lo sbiro managgia peppo vai managgia peppo c'è il piccolo corattato mi fio non ne investire ehi e di chi c'è con che ci sono anche io eh sì siamo qui con Mastro Ginzo con... aia che male mi stai spettendo Tiger Mastro non preoccuparti ci sono gli sbirri sbirri avanziamo no Mastro chiama gli sbirri è arrivata un'altra partuglia di sbirri andiamo sbirri sbirri go 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 ma quanto ne dicono stuputi sono dei mercenari no Mastro una pattuglia di sbirri si è buttata in acqua no 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 che deficienti ah che male managgia peppo oh sono caduto in acqua ah mannaggia 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 sto fogando oh che schifo cost'acqua oh c'è una scalla sono ricercato ma Mastro chiama gli sbirri chiama gli sbirri 60 pattuglie siamo della TRS fermatevi meri 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 mercenari quasi giapponesi vi ordine di fermarmi ma no a me della legge FBI no no TRS giù 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 dobbiamo spaccare il sedere mani in alto o vi ammazziamo tutti e ammazziamo tutti ok signore ok signori Mastro guida tu abbiamo preso il carico ha dei cefi oh Mastro guida te devo caricare vabbè vado a fianco fa niente vada anche se muoio vada non si fermi porta il carico non si fermi